carissimi bentornati al caffè a grande richiesta oggi vediamo un breve confronto tra il naturalismo francese e il verismo italiano quindi siamo all'interno di quella grande corrente letteraria che fu il realismo quindi siamo nell'ottocento chiaramente così abbiamo subito un riferimento temporale preciso questo video è una sintesi quindi non c'è alcuna pretesa di essere esaustivi soprattutto poi tratterrò più diffusamente questi temi quando ci arriveremo quando sarà il momento ma rispondo ad alcune richieste che mi sono arrivate da parte di alcuni studenti che quest'anno affronteranno la maturità quindi in bocca al lupo ragazzi buona fortuna mercoledì 21 c'è lo scritto di italiano però queste lezioni vi serviranno soprattutto per l'orale quindi spero di darvi un aiuto di contribuire al vostro successo prima una premessa importante perché ve la possono chiedere all'esame cosa vuol dire che il verismo il naturalismo rappresentano la realtà così com'è quindi cosa vuol dire questa frase perché spesso si impara memoria però poi quando si va a chiedere spesso gli studenti fanno scena muta o non hanno capito cosa veramente vuol dire questa cosa quindi prima fugheremo il dubbio su questo aspetto vi consiglio di guardarlo perché è importante ve lo potrebbero chiedere poi vedremo brevemente due parole sul naturalismo francese sul verismo italiano ma soprattutto dirò dell'uno e dell'altro facendo un confronto tra i due quindi una sorta di specchietto di sintesi di schema dove vedremo l'idea dell'uno e l'idea dell'altro qui sintetizzeremo tutto attraverso i due più grandi rappresentanti del naturalismo del verismo emile zola e giovanni verga parlando del romanzo realista intanto sappiate ricordatevi come fascia temporale che siamo nell'ottocento soprattutto nella seconda metà dell'ottocento ma ricordatevi che per i francesi il padre del realismo è proprio flaubert stato il primo scrittore che ha anticipato alcuni elementi realisti pensate a madame bovary se l'avete letto siete anche avvantaggiati flaubert che cosa scrive poi parlando proprio del romanzo in generale l'artista deve essere nella sua opera come dio nella sua creazione invisibile e onnipotente sì che lo si senta ovunque ma non lo si veda mai ecco già questa frase vi riassume tutto qua vi ha già descritto il tema dell'impersonalità impersonalità che cosa vuol dire che l'autore non deve più intervenire con i suoi giudizi con le sue opinioni personali cioè è distaccato è lontano si richiama a sua volta al positivismo quindi a tutta quella corrente filosofica che c'è già stata che si è già diffusa vi lascio qui sotto i link in descrizione dei due video andate lì a vedere vi serviranno molto per la maturità e abbiamo visto proprio qual è quindi l'obiettivo il progresso io devo lavorare devo agire per il benessere per il progresso della società l'obiettivo è proprio di migliorare le condizioni economiche politiche sociali delle persone vi ricordate il motto del positivismo di auguste comte l'amore per principio l'ordine per fondamento e il progresso per fine obiettivo è il progresso quindi abbiamo una fiducia cieca totale nei confronti della tecnica e della scienza e quindi è chiaro che per i naturalisti francesi per solà in primis il romanziere diventa uno scienziato si fa sperimentatore e il romanzo che cosa diventa diventa un esperimento scientifico quindi queste cose vi devono essere chiare ma non bisogna imparare la memoria bisogna proprio capirle il romanzo è il mio esperimento cioè attraverso la scrittura l'autore lo scrittore cerca di comprendere di capire la realtà che lo circonda chiaramente non tutta la realtà quella che lui ha deciso di analizzare quindi avete già capito che in realtà non si potrà mai essere realmente impersonale al cento per cento perché quella che mi viene rappresentata è pur sempre una scelta dell'autore ma su questo punto ci arriviamo dopo quindi sola stesso si definisce romanziere sperimentale lo dice e poi scrive tutti i vari principi tutti gli elementi del dello scrittore appunto naturalista in generale dello sperimentatore nel suo saggio che si intitola il romanzo sperimentale pubblicato nel 1880 quello è proprio il manifesto del naturalismo francese quindi vi consiglio qualche parte se l'avete nel vostro manuale nel vostro libro di testo di andarla a vedere perché è molto utile ecco quindi attraverso il romanzo io devo capire come funziona l'uomo è un esperimento a tutti gli effetti lo scienziato è imparziale e imparziale deve essere anche lo scrittore e lo fa in che modo non dando giudizi non intervenendo nel suo racconto vi ricordate manzoni spesso interviene a dare giudizi su renzo su lucia pensate anche a gertrude la sventurata rispose quando parla del suo amore con egidio no la sventurata ma quello è un giudizio di manzoni però non pensiate che sola si astenga dai giudizi perché non è vero quando lui intitola uno dei suoi libri la betto in me nella bestia umana già lì dalla definizione che ancora romantica della ferrovia perché la betto in me ovviamente la macchina a vapore il treno che ha deturpato la natura ci sono ancora i giudizi da parte dell'autore e il tentativo di essere impersonali di regredire di sparire ma in realtà non si riesce a farlo al cento per cento perché la realtà così com'è nessuno ve la può realmente descrivere offrire perché la realtà che cos'è è sempre il rapporto tra l'io tra il soggetto e le cose quindi in realtà come diceva Schopenhauer il mondo che cos'è è la mia rappresentazione è chiaro che se uno fa una fotografia chi ha scelto di fotografare proprio quella cosa è il fotografo e quindi è chiaro che c'è sempre una scelta soggettiva alla base solo che tra Zola e Verga c'è una differenza sostanziale per Zola e si può migliorare la società quindi io posso denunciare quello che vedo i problemi l'alcolismo la droga la prostituzione la la il mal governo e la corruzione tutto quello che volete per migliorare poi la società denuncio per risolvere i problemi in verga e nei veristi italiani questo non è più possibile nel senso che sì io posso denunciare posso farvi vedere come sia la realtà ma non ho alcuna fiducia e nessuna certezza che questa realtà possa essere modificata poi vedremo che alla base c'è anche un altro motivo però ci arrivo un po la volta l'obiettivo per il naturalismo è proprio questo conoscere l'uomo dal punto di vista scientifico esistono delle leggi che lo governano esistono cioè dei motivi se l'uomo si comporta in un certo modo andate a vedere anche il positivismo ne parla i politen ten parla proprio di race moment e milieu quindi parla proprio di razza cioè di elementi genetici parla di ambiente e parla di tempo io chi sono perché mi comporto in un certo modo perché sono nato in una certa epoca in una certa società in un certo periodo storico e da determinati genitori e quindi è chiaro che io erediti anche delle tare dei vizi o delle qualità dai miei genitori o dai miei antenati non sono chi ho scelto di essere ma sono il frutto il prodotto di altri perché in realtà anche l'identità stessa non me la costruisco io me la riconoscono gli altri io da solo non sarei nessuno e quindi qui poi potrete anche collegarvi con pirandello io sono uno nessuno e centomila però ecco per il naturalisti è proprio il tentativo di catturare di capire quindi queste leggi del meccanismo umano perché funziono in un certo modo attenzione per il naturalismo e non è più importante chiedersi il perché delle cose ma soltanto il come infatti lo dice Zola nel romanzo sperimentale l'uomo metafisico è morto la metafisica cioè andare oltre la physis oltre la natura non mi interessa più io devo occuparmi soltanto di ciò che posso conoscere e cosa posso conoscere lo dice il positivismo da positum est ciò che è dato ciò che è posto ciò che io posso vedere osservare in maniera tangibile quello quindi che io posso analizzare scientificamente tutto il resto non lo guardo più non lo considero più lo escludo non posso esprimermi quindi sospendo il giudizio ecco quindi non c'è più spazio per tutte le domande esistenziali importanti di manzoni o di leopardi pensate appunto a che tante facelle che vuol dire questa solitudine immensa e dio che sono da dove vengo dove vado perché esisto perché io soffro e invece le greggi non soffrono perché sento questo tedium vite lo dicevano leopardi tutto questo dice Zola non mi interessa più non me ne occupo perché non posso rispondere pensate al problema del male nel mondo di manzoni il problema della giustizia perché se esiste un dio c'è il male guardate che è un problema fondamentale quello del male nel mondo per un cristiano di questo non mi occupo perché il romanziere si attiene a quello che insegna e che dice la scienza adesso tutto viene analizzato sezionato studiato per capire come funziona l'uomo e questo ripeto perché c'è una grande fiducia nel progresso scientifico nella tecnica io studio tutto questo dice Zola devo capire perché l'uomo si comporta in un certo modo perché si droga perché si ubriaca perché si prostituisce per risolvere questi problemi affinché poi attraverso le mie denunce i politici quindi la politica si possa occupare di questi temi e possa quindi creare una società migliore ma c'è alla base un ottimismo di fondo il progresso per fine quello è l'obiettivo lo posso fare ecco questa fiducia invece nei veristi non c'è è sparita io ti posso sì rappresentare la realtà posso darti una fotografia un'istantanea di questo mondo del mondo ovviamente che ho scelto io ma non ho alcuna fiducia che le cose possano cambiare perché perché la legge alla base di tutto qual è quando ho capito quando ho studiato la legge del più forte il più forte vince e il più debole soccombe quindi è la legge di natura la legge di cui parlava già darwin quindi pensate anche al darwinismo sociale è tutto collegato viene tutto messo qui dentro ne ho già parlato negli altri video il più forte riesce a vincere sul più debole poi leggiamo la prefazione in malavoglia quindi parliamo del ciclo dei vinti chi è il vinto il vinto è colui che viene superato da una persona più brava di lui più capace più intelligente più scaltra che a un certo punto riuscirà a metterlo nel sacco e quindi in realtà chi sono i vinti tutti perché prima o poi tutti verranno sopraffatti dalla fiumana del progresso quindi prima o poi tutti verranno presi i fagocitati poi rigurgitati arriva buttati là come i rottami come inutili ossi di seppia adesso anticipo questa premessa fondamentale parliamo un attimo di verga con il verismo siamo tra il 1878 e il 1890 quindi proprio l'ultima parte dell'800 nel 78 cioè da quando giovanni verga pubblica la novella rosso malpelo da lì in poi quindi abbiamo questo riferimento ricordate che il verismo non è una scuola verga non è il caposcuola perché non ci sono elementi comuni che vengono insegnati o in cui tutti si riconoscono quindi non c'è una scuola averista però è interessante proprio pensare per esempio a tutta l'analisi allo studio che fa appunto verga di cui lui si occupa pensiamo al ciclo dei vinti no in malavoglia mastro don gesualdo la duchessa di leira l'uomo di lusso l'onorevole scipioni verga cercava di capire di studiare perché le persone si comportassero in un certo modo dal ceto sociale più umile fino a quello più elevato e che cosa analizza non analizza più lì non indaga più e problemi in maniera verticale ma solo problemi in maniera orizzontale non ci sono più i problemi della felicità della giustizia del male nel mondo ma soltanto lo studio del benessere cioè di come le persone agiscano per migliorare la propria condizione sociale nei malavoglia abbiamo questi poveri che cercano di capire come fare per diventare più ricchi nel mastro don gesualdo abbiamo invece il ricco che vuole diventare nobile abbiamo vedete tutta una scala sociale che punta sempre più in alto l'uomo che desidera avere sempre di più ma in realtà poi alla fine non è mai contento oppure tutto quello che ha fatto si scopre poi inutile quindi scopre di aver buttato via la sua vita in cose inutili pensate a due esempi su tutti mastro don gesualdo e mazzarò che poi alla fine uno si vede sperperate scelacquate tutte le sue sostanze e l'altro esce fuori impazzito batte con il bastone le sue anatre le sue ocche perché vorrebbe che la roba se ne andasse via con lui come se si potesse portare via dopo la morte ecco quindi in realtà sappiate lo potete dire anche all'esame sappiate che verga non segue davvero zola perché perché lo sguardo con cui lui osserva non è così spassionato come dirà lui adesso lo leggiamo nella prefazione in malavoglia quindi come ha dichiarato nel ciclo dei vinti cioè lui dice sì l'opera deve sembrare essersi fatta da sé dice persino che io lettore dovrei capire un personaggio da come questo personaggio si soffia al naso ecco cioè non deve più esserci l'autore che me lo dice però in realtà provate a pensare una foto rappresenta la realtà così com'è assolutamente no cosa rappresenta una fotografia quando noi diciamo che il romanzo realista fotografa la realtà in realtà rappresenta il rapporto tra il soggetto e la realtà stessa quindi il rapporto tra la realtà e il fotografo nel nostro caso invece il rapporto tra le cose e lo scrittore quindi in realtà tutto quello che lui racconta è sempre filtrato verga usa l'impersonalità la regressione lo straniamento come metodi narrativi sono delle tecniche che lui utilizza ma non è un pensiero soltanto una tecnica cioè verga vuole che noi capiamo le cose senza però dovercele spiegare devo capire il personaggio da come si soffia il naso non ha più bisogno di dirci è poverino lui è stato sventurato perché ha vissuto questo ha vissuto quello ha fatto questa cosa per questo motivo per quest'altro motivo non c'è più questo bisogno lo dobbiamo capire da soli non c'è niente di oggettivo perché è una scelta soggettiva ha deciso lui che cosa raccontarci e di chi parlarci l'autore cioè mostra senza intervenire e ti nasconde il processo creativo ma in realtà il processo creativo c'è quindi questa tecnica della regressione per esempio in che cosa consiste regredire significa che l'autore deve sparire non si deve più sentire e come lo fa azzerando il filtro tra la realtà e il soggetto stesso quindi io non lo percepisco più il filtro non vedo più il paio di occhiali attraverso cui lui ha osservato la realtà ma in realtà quel paio di occhiali c'è tant'è vero che dichiara che l'opera deve sembrare essersi fatta da sé ma non si è fatta da sola lo sembra quindi in realtà è una finzione è un inganno narrativo è una tecnica ma non è realmente così in realtà è soggettivissimo anche il romanzo realista altro che è soltanto un modo per rappresentare la realtà c'è una differenza di fondo per i veristi italiani il libro quindi il romanzo non è un esperimento scientifico ma è un'opera d'arte e quindi in quanto tale è soggettiva è logico cioè è come se verga vi dicesse io artista da un blocco di pietra ricavo un'opera bellissima una scultura ma voi non dovete farvi spiegare da me come abbia fatto a ricavare quella scultura dovete capire da soli ciò che la scultura comunica vedendo soltanto il risultato finale non tutto il processo che mi ha portato a realizzare questa scultura ecco pirandello e svevo invece non sono assolutamente d'accordo con questa mentalità positivista perché perché l'uomo è inconoscibile chi sono io lo dirà pirandello uno nessuno e centomila quindi figurarsi se io posso capire qualcosa di me stesso non posso capire niente la realtà non è scientificamente conoscibile quindi questo metodo scientifico questa fiducia sono inutili perché non mi portano da nessuna parte questa era una premessa fondamentale e adesso passiamo a vedere invece quali sono quindi le somiglianze o le differenze di fondo anche se l'avete già capito tra il naturalismo francese di isolà e il verismo italiano di verga di capuana e di federico de roberto è anche bello e interessante ricavare le tematiche direttamente dalle parole degli autori perché vi resta impresso di più partiamo per esempio dalla prefazione a germinile assorteur dei fratelli edmont e jules de concorso voi andate a leggere questo è un romanzo il primissimo romanzo naturalista francese pubblicato nel 1864 a puntate e poi esce in volume nel 65 quindi il romanzo del 65 cosa dicono i due fratelli all'inizio dobbiamo chiedere scusa al pubblico se gli offriamo questo libro e avvertirlo di quello che vi troverà il pubblico ama i romanzi di fantasia questo romanzo vero ama i libri che immaginano di penetrare nel gran mondo questo libro viene dalla strada eccolo qui qui vi ha già detto tutto ama i lavori licenziosi le sudicerie erotiche e invece ciò che sta per leggere è puro e serio il pubblico non si aspetti la descrizione scollacciata del piacere lo studio sottolineo lo studio che segue è la clinica dell'amore sentite linguaggio medico scientifico tecnico la clinica lo studio spassionato come dirà anche verga l'analisi clinica se voi leggete fosca di gino ugo tarchetti dice la stessa cosa qui non racconto una storia d'amore ma faccio la clinica l'analisi lo studio di questo amore la stessa cosa quindi qui avete già capito tutto l'autore deve sparire deve regredire lo fa attraverso l'impersonalità impersonalità significa insolà che lo sperimentatore lo scrittore è distaccato dalla materia che sta studiando come lo scienziato quindi non si immerge dentro ma se ne sta al di fuori quindi è un narratore oniscente che sa già tutto però io non percepisco più i suoi giudizi e i suoi pensieri perché si estiene dal darli in realtà non è così ci provano ma al cento per cento non ci riescono ogni tanto solà interviene se voi avete letto se leggerete i romanzi di isolà quelli del ciclo dei rougon mccart scoprirete che spesso interviene invece sembra manzoni in alcuni punti quindi questa pretesa di in personalità al cento per cento non c'è non è possibile non posso studiare la realtà senza che ci sia anche la soggettività di mezzo perché sempre una persona che analizza la realtà è sempre un rapporto tra l'io e le cose e la scientificità ecco questa sì significa rappresentare la realtà così com'è in altre parole non devono più esserci filtri i filtri per esempio della magia del mondo metafisico quindi di tutto e di tutte le creature spirituali non c'è più alcun filtro quindi anche legato alla fantasia ma tutto quello che viene analizzato è strettamente legato alla realtà quotidiana questo libro dicono i fratelli de concours viene dalla strada addirittura si analizzano i problemi più importanti delle città soprattutto alcolismo droga prostituzione ma il fine l'ho detto prima è chiaro migliorare la realtà in verga in capuana in federico de roberto quindi nei veristi italiani questo invece non è più possibile non è più fattibile perché l'arte è diversa dalla scienza il romanzo rimane comunque un'opera d'arte quindi la scientificità la posso avere ma soltanto nell'impersonalità cioè senza offrire i miei giudizi personali non ci riescono al cento per cento neanche loro però ci provano quindi l'autore deve scomparire deve regredire ma è una tecnica non è un pensiero il narratore si fa interno viene calato all'interno del romanzo è una voce narrante anonima cioè uno spettatore che è lì interno che vive le stesse situazioni degli altri personaggi che osserva e registra tutto ma in realtà ricordatevi che quando uno registra decide lui dove puntare la telecamera quindi in realtà non è oggettivo imparziale al cento per cento qui ricordatevi che alla base del pessimismo verghiano sta proprio la legge di natura l'uomo vive la lotta quotidiana per la sopravvivenza per il progresso come dice lui soltanto due sono i motori che mi spingono ad agire ogni mattina un fortissimo egoismo e l'utile e quindi ciò che mi serve è proprio per migliorare le mie condizioni sociali oppure per il desiderio anche di soprafazione perché voglio essere quindi migliore di qualcun altro ma questa è la conseguenza dell'egoismo e dell'utile perché quello che è utile per me magari è dannoso per un altro quindi alla base c'è la legge di natura la legge di Charles Darwin il più forte vive e il più debole soccombe oppure il più forte domina chiaramente sul più debole ed è una visione pessimistica perché dice se alla base c'è questa legge io non posso migliorare la realtà in cui vivo perché ognuno continuerà a vivere sempre per migliorare se stesso e per danneggiare l'altro quindi in realtà posso fare tutto quello che voglio ma la politica continuerà a fallire proprio per questa ragione è una legge immutabile il comportamento umano non cambia mai munno a stato e munno è come dice verga il mondo è stato e il mondo è è immutabile non può cambiare quindi non offre soluzioni perché secondo lui non si può cambiare la natura umana che rimane sempre la stessa nel corso dei secoli poi un altro elemento di distinzione ricordiamoci che mentre in Zola abbiamo un linguaggio letterario colto che cozza spesso con il livello culturale sociale dei personaggi narrati ecco che invece in verga abbiamo anche questo tentativo di riprodurre il loro gergo le loro parole i proverbi le sentenze i detti e le frasi celebri però ovviamente sempre attraverso questa patina italianizzata verso un italiano che sia compreso da tutti perché il desiderio era quello di raggiungere un pubblico vasto quindi affinché fosse poi capito da tutta Italia insomma però c'è una differenza anche Zola tenta di riprodurre un certo tipo di linguaggio però c'è già più questa distinzione si avverte un po di più e con Zola siamo in una realtà cittadina mentre in verga siamo ovviamente nella società arretrata e statica del sud Italia pensate in malavoglia siamo ad Acitrezza con il maestro Don Gesualdo siamo a Vizzini quindi sempre in Sicilia poi la società in Zola è sempre regolata da leggi fisiche meccaniche ben precise spiegabili in verga abbiamo detto di no sono dominati da una legge di natura che conosco già ma che non posso cambiare in alcun modo l'impersonalità abbiamo detto in Zola si manifesta in questo distacco mentre in verga può essere solo queste eclisse nella materia quindi posso eclissarmi ma niente di più questi a mio avviso sono i temi più importanti detti in maniera molto sintetica e lo ripeto poi andranno analizzati in maniera più diffusa però ci torneremo molto più avanti anticipato per i maturandi se vi interessa se vi può far piacere leggiamo anche la prefazione in malavoglia ciò che verga dichiara a proposito del ciclo dei vinti e collegatelo sempre mi raccomando con il ciclo di Rougon McCartt di Emile Zola non la leggo tutta ne leggo alcune parti questo racconto dice verga è lo studio sincero e spassionato del come probabilmente devono nascere e svilupparsi nelle più umili condizioni le prime inquietudini per benessere e qui ha già riassunto tutto quello che vi ho detto io è uno studio sincero e spassionato spassionato mica tanto lo studio è un tentativo in realtà tutto è comunque filtrato dall'autore che si sforza di sparire di non esserci però c'è quindi le inquietudini e le preoccupazioni per il benessere quindi una ricerca di tipo orizzontale devo solo migliorare la mia condizione sociale l'obiettivo è stare meglio il movente dell'attività umana che produce la fiumana del progresso è preso qui alle sue sorgenti nelle proporzioni più modeste e materiali quindi quello che lui va a studiare è sempre questo è sempre la ragione per cui si voglia stare meglio quindi si devono capire i come non i perché devo capire come agisce questa persona come fa quali sono i meccanismi che lo determinano quindi andate a rivedere i video che vi lascio qui anche per il determinismo io sono determinato da certe regole meccaniche quindi non mi posso sottrarre a quelle quindi agisco in un certo modo e per cause genetiche addirittura interessante cosa farà in queste analisi esser sinceri per dimostrare la verità quindi l'obiettivo è quello di essere veritieri di dimostrare cioè la verità e verrà messo in luce il cammino fatale incessante per raggiungere la conquista del progresso eccolo qui solo l'osservatore travolto anch'esso dalla fiumana guardandosi attorno al diritto di interessarsi ai deboli che restano per via ai fiacchi che si lasciano sorpassare dall'onda per finire più presto ai vinti che levano le braccia disperate e piegano il capo sotto il piede brutale dei sopravenienti i vincitori d'oggi affrettati anch'essi avidi anch'essi da arrivare e che saranno sorpassati domani siamo tutti vinti perché tutti lottano per il benessere ma prima o poi tutti verranno sorpassati da qualcun altro e poi chiaramente vi dà l'elenco sono tutti ossi di seppia tutti i ottami che prima o poi vengono rigurgitati a riva e eliminati perché diventati inutili quando una persona non mi serve più la butto via adesso vado alla fine chi osserva questo spettacolo non ha il diritto di giudicarlo è già molto se riesce a trarsi un istante fuori dal campo della lotta per studiarla senza passione ma non è vero perché in realtà poi le passioni emergono e rendere la scena nettamente con i colori adatti tale da dare la rappresentazione della realtà come è stata cioè rappresento la realtà così com'è cosa vuol dire non ci sono filtri della metafisica della fantasia quindi non ci sono più maghi streghe magia non ci sono più gli dèi un dio non c'è più quindi tutto quello che non posso indagare questo va bene ma in realtà non è vero che è così com'è è sempre un rapporto tra me stesso e gli oggetti e ciò che mi circonda o come avrebbe dovuto essere quindi come avrebbe detto manzoni il santo vero mai non tradire quindi anche chi osserva in realtà è travolto da questa fiumana quindi anche lo scrittore un giorno sarà vinto e sopraffatto dagli altri ma neanche lo scrittore è realmente imparziale al cento per cento questo è il discorso cioè quello che voglio che voi capiate che loro si sforzano di non giudicare di essere impersonali di sparire ma non è vero al cento per cento questa sarebbe la vera risposta da dare all'esame tentano di farlo ma non ci riescono completamente quindi per tirare le somme vale un'unica sola legge in natura quella della sopravvivenza quello più forte chi è quello che sa adattarsi quello che sa e prendere a proprio a favore gli eventi si adatta e cambia detto in altri termini il più forte che riesce a vincere a sopravvivere non è quello che si oppone alla corrente ma quello che si lascia trasportare da essa quindi l'egoismo e l'istinto sono le uniche due forze motrici di tutta l'umanità ed è il pessimismo di fondo che accompagnerà verga e che voi ritroverete sempre in tutte le sue opere veriste io spero in questa breve lezione in questa trattazione di avervi offerto degli spunti di riflessione magari di avervi chiarito anche alcuni punti però mi raccomando non imparate a memoria perché dire solo rappresenta la realtà così com'è tutti i romanzi rappresentano la realtà una parte un frammento di verità anche harry potter parla della verità perché parla del rapporto con i genitori parla di amicizia della lotta tra il bene e il male ma non è un romanzo realista ecco qua quindi la differenza l'abbiamo detta prima quindi mi raccomando preparatevi bene se avete altre richieste io sono qui ben volentieri ci prepariamo tutti insieme alla maturità 2023 ma sono sicuro che andrà molto bene a tutti voi con questo io vi lascio vi auguro una buona giornata un buono studio per tutti gli altri buone vacanze a presto